L'Arizzo batte il Prato per 1-0 con gol di Moscardelli, ma tutta l'attenzione era catalizzata sul nuovo presidente dell'Arizzo, Marco Matteoni, al suo debutto ufficiale allo stadio comunale. Arrivato con sciarpa maranto al collo, accompagnato in tribuna dal sindaco Ginelli e da Paolo Bertini, ha seguito con Patos tutta la partita. Un debutto caratterizzato anche da uno dei riflettori che si è spento per qualche minuto nel primo tempo causando la sospensione momentanea della gara. Poi in sala stampa il nuovo presidente è stato un fiume in piena. C'è da lavorare, la squadra è molto molto timida, è molto molto paurosa. La sensazione che ho avuto io ovviamente. In casa devi essere preso nel campo. Sì, dopo due sconfitti era prevedibile. Si è ripartiti e adesso cerchiamo di non fermarci più nei limiti ovviamente del possibile. È ovvio, però voglio dire che ho visto una squadra timorosa. Io, devo essere onesto, che se ne dica mi è piaciuto il portiere, perché comunque veniva da una grossa papera e mi è piaciuto. E poi la squadra tutta non mi è dispiaciuta, solo che il primo tempo aveva un buco in difesa sulla destra. E' una squadra che comunque ha potenzialità anche per risalire la classifica, ovviamente con prestazioni diverse. Sì, facendo una campagna acquisti a gennaio che possa. Quindi le vostre intenzioni c'è quindi di rinforzarla? Sì, abbiamo intenzione di rinforzarla, abbiamo intenzione di regalargli un giubbotto nuovo perché fa un freddo fottuto. Senta, ha visto la partita col sindaco, ha avuto modo di conoscerlo, insomma che sensazioni ha? Viva la faccia, un sindaco simpatico. Io vengo da una sindaca che si riconosce solo per le orecchie. Ecco, sul mercato secondo te quanto dovrete intervenire? Franco Zavaglia mi dirà tutto quello che c'è da sapere, non adesso ovviamente. E il mio Vate. State attenti a non mettere una R che è bruttissimo. Ti posi la piazza che impressione le ha fatte? Dunque, l'orecchio sinistro era contentissimo, l'orecchio destro un po' di meno perché ti sentiti mai, però mi sono piaciuti, mi sono piaciuti. Cerchiamo di avere anche un buon rapporto con loro.